Skincare anti-age. Iniziamo da una deterzione particolare. Metti un cucchiaino di zucchero con un po' di latte detergente. Lo spalmi su tutto il viso e decolleté e comincia a fare uno scrub per qualche minuto. Quando il latte sarà assorbito inizia a fare un massaggio ad espansione, appoggiando tutta la mano sulla pelle e sollevandola, tirandosi dietro un pochino la pelle. Sentirai che le mani si appiccicano e questo si chiama massaggio ad espansione. Richiama acqua nei tessuti, nel derma e ossigena le cellule. Questa riantitazione della circolazione ti darà immediatamente un effetto rimpolpante del viso. Non trascurare mai il collo e il decolleté, sennò rischi di fare liceo e museo. Facciamo un massaggio con il gel all'acido ialuronico e il gua sha di Giada. L'acido ialuronico e un bel massaggio con il gua sha hanno un effetto fortemente distante. Il trucchetto ti aiuterà a mantenere l'elasticità della pelle. L'invecchiamento precoce è dovuto proprio alla mancanza di elasticità. Termina con una buona crema anti-age e guarda il risultato.